Ecco, vediamo anche Tatti, l'ambasciatore. Guarda come pure non Tatti. E' più bello col cappello però. Allora, dopo la selezione che vi ho spiegato stamattina alla Rampa della Morte e dopo esser passati dalla sauna e avessero messo il pigiama a righe, il cappello a righe, i tedeschi ci hanno portato qui, nel lager A, questo lager. E' subito entrati perché questa entrata che avete fatto non esisteva, l'entrata principale era là, dall'altra parte. Di qua si entrava e di qua si usciva ogni mattina per andare a lavorare. Una volta messi qui dentro, noi arrivati il 16 di agosto e sopravvissuti dalla parte destra per lavori forzati, siamo stati distribuiti qui dai capò. I capò ci hanno preso il carico di distribuirci in queste baracche. Un capò ha preso l'incarico di prendere mio papà Giacobbe e di metterlo nella baracca numero 15. Un altro capò mi ha preso a me e mi ha sbattuto nella baracca numero 11. Eravamo nello stesso lager A, ma distribuiti diversamente. Lager A, baracca numero 15 dove c'era papà e la baracca numero 11 dove c'ero io. E di qua abbiamo incominciato a avere le nostre giornate lavorative che si facevano ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno uguali. Non c'erano né sabati né domeniche diverse, dunque ogni giorno era un giorno lavorativo. Il lavoro rende liberi. Io ogni sera avevo la fortuna, dopo le ore di lavoro, di andare subito nella baracca numero 15 dove c'era papà che mi aspettava, un papà adorabile. Era l'inizio del nostro arrivo qui, ancora non avevo un'esperienza matura. Erano i primi giorni e di fatti qui quando siamo arrivati il primo giorno vi avevo detto poco fa che avevamo la speranza di vedere i nostri cari che erano partiti dalla parte sinistra. La prima domanda che abbiamo fatto a queste persone che erano arrivate prima di noi qui era quella di chiedere avremmo l'occasione di rivedere i nostri cari che abbiamo visto partire dalla parte sinistra. E loro ci hanno guardato in faccia come sapete? Dicono siamo arrivati oggi e non sappiamo ve lo chiediamo perché può darsi avremo la speranza di ritrovarli. E ci hanno detto, non vedete questi due cammini? Abbiamo detto sì, vediamo questi due cammini. E di fatti ci hanno risposto con precisione. Le anime dei vostri cari, era la serra del 16 agosto del 1944, quando ci hanno detto ufficialmente che le anime dei nostri cari non c'erano più. Erano già in quel fumo delle camera a gas che avete visto. Allora io ogni sera avevo il piacere di andare a parlare con papà. Papà mi aspettava, erano appena arrivati. I primi giorni era per me qualcosa che mi dava lo stimolo di avere qualcuno che c'era, che dove potevo parlare e discutere con lui. Papà si preoccupava, ogni volta che mi vedeva mi diceva ma come sei combinato, sei tutto bagnato. Perché io dovevo spiegargli il motivo con calma, senza farlo preoccupare. Non volevo preoccuparlo, ci tenevo, ci tenevo molto. Anzi gli dicevo ma io sono ridotto male, ma vedo anche che te sei ridotto male papà. E allora vicenda ci raccontavamo, poi lui mi diceva su Sammy, adesso vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. Era l'ultima frase che lui mi diceva, mi accarezzava e io seguivo i consigli di papà e andavo nella baracca numero 11. Perché veramente il giorno dopo mi aspettava una giornata dura di lavoro e è andato avanti fino ai primi di settembre. I primi di settembre è scattata in me. È una cosa che scatta normalmente. Avevo capito anch'io che non c'era più niente da fare, che qui eravamo dei condannati a morte. L'ha detto Marcello, una volta che entri qui eri già un morto. Dunque questo era entrato anche nel mio cervellino. Da quel momento è scattata in me qualche cosa. Io mi ero affezionato molto a mia sorella. Mia sorella Lucia era qualcosa di importante per me. Avevo un papà ma dal 16 di agosto non vedevo più mia sorella. E sapevo molto bene che mia sorella era qui, nell'Agarby. Ma non abbiamo avuto né il tempo né la possibilità di cercarla. Né mio papà né io. Allora quando erano i primi di settembre, quando papà mi disse vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. E ho detto no papà, io questa sera non vado a riposarmi. Perché? Perché ho deciso. Ho deciso di andare a cercare mia sorella. Lo sai molto bene tua figlia, mia sorella, ma dall'altra parte né te né io abbiamo avuto l'occasione di vederla. Lui è rimasto a sentirmi senza parlare e poi ha alzato le spalle. E io da quel giorno, da quella sera, cercavo, vedete è lunga la strada, non è facile, non è facile cercare una persona qui dentro. Erano tutte uguali, erano tutte rasate a zero, avevano tutte un pigiama a righe, erano tutte magre. E riconoscere mia sorella qui dentro era difficilissimo. Ma io ero testato, volevo. E non mi ricordo bene se è stato il terzo o quarto tentativo. Una mano. Io ero là, più o meno. E cerco di capire. Di chi è questa mano che è. E non riesco a riconoscere la persona. Però quella mano continua a sventolare. E poi io cerco di cercare di darmi da fare perché c'erano queste torrette là con gli agozzini che se facevi una mossa sbagliata. E poi, piano piano, mi sono trascinato, rischiando di essere. E era la mano di mia sorella, l'avevo riconosciuta. Ma io sbagliavo perché nel mio pensiero era da poco che avevo lasciato, nella rampa della morte, avevo lasciato una ragazza bellissima, con i suoi capelli lunghi, in forma. E mi sono trovata davanti a una sagoma irriconoscibile, magra, con quel pigiama rasata a zero. Ma era lei, era mia sorella, Lucia. E là c'è stato questi gesti, questi gesti teneri di amore fratello. E poi ci siamo capiti, senza parlare, con i gesti. E io continuavo, ma non è stata lunga. Anzi, il giorno dopo ho detto a mio papà il risultato di questo mio incontro e credevo di farlo felice. E io, quando ho raccontato questo mio papà, ho detto la verità. Senza volere ho detto che avevo avuto difficoltà a riconoscerla perché era in uno stato pietevole. Papà stava là a sentirmi e poi alla fine gli ho detto papà, vieni, andiamo. Lucia ti aspetta, vieni anche a te. Sei rifiutato? No. Io in quel momento da ragazzo non ho capito il motivo, il perché lui si rifiutava. Quando poi l'ho capito era troppo tardi, lui voleva ricordarsi così come l'ha lasciata nella rampa della morte. Era un papà adorabile, aveva 45 anni, aveva capito tutto e non voleva vederla in quelle condizioni, voleva ricordarsene in quelle condizioni là. Pochi giorni dopo, neanche, può darsi il 10 di settembre, il 9 di settembre, quando io sono venuto qua, volevo l'8 settembre, ho voluto regalare qualche cosa a mia sorella. Sì, ho voluto, la vedevo in quelle condizioni, ogni sera ci davano una fetta di pane, io ho avvolto, ho detto Sammy, tua sorella ha più bisogno di te. Io ho avvolto questa fetta di pane in un panno e di qua, gli ho fatto partire, che gliela ho spedita. Mia sorella ha aperto il fazzoletto e ha visto la mia fetta di pane e mi ricordo bene quell'abbraccio che non mi posso ascoltare. Come fai a ascoltarti questo? Come fai? E poi... Mi fa segno che mi spedisce indietro il fazzoletto dove là dentro c'era di ritorno la mia fetta di pane e la sua fetta di pane. Ora, io vi chiedo, uno può cancellare questa scena? La si può cancellare? Ecco. Pochi giorni dopo mia sorella non si è presentata qui e avevo capito che avevo perso la cosa più cara che avevo al mondo. Ma io non volevo accettare questa perdita. No, non la volevo accettare. Insistevo, venivo ancora. Insistevo, dicevo, non è possibile. Non volevo. Ma però ho dovuto accettarla. E di questo ho fatto presente a mio papà. Gli ho detto, papà, purtroppo, Lucia... Da quel momento in poi mio papà pure si è lasciato andare. Era inutile continuare a lavorare. Avevo avuto questo grande dispiacere che non voleva più. Era il 15 di settembre, il 16 di settembre, il 18 di settembre avevo perso i quanti. mio papà mi dice, non mi dice la solita frase, vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. No, mi dice, rimani un pochettino con me. Rimani un pochettino con me. Io mi posso dimenticare questo. E lui in silenzio mi guardava e non parlava. Mi osservava. E io vedevo nel suo viso qualche cosa di tranquillità, di serenità. Era deciso. E poi sono stato io a chiedergli, papà mi vuoi dire qualche cosa? Sì, avvicinati. Domani. Quando verrai. Io non ci sarò. E ho detto perché? Che è successo? Ti hanno trasferito? Perché succedeva? Ogni tanto che prendevano un progettivo, lo sbattevano a destra e a sinistra. No, 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 no. E allora? Domani io non mi sento bene. Mi presento all'ambulatorio perché... E io gli ho detto, ma papà, sai che cosa vuol dire presentarti all'ambulatorio? C'era il passaparola fra di noi. Sapevamo tutti che uno quando si presentava all'ambulatorio aveva deciso di farla finita. Non ti preoccupare. A me mi cureranno. Io ho insistito, ho fatto di tutto per convincerlo, ma non ci sono riuscito. Non ci sono riuscito tanto. Papà, non farlo, per favore. Non c'è stato niente da fare. E poi, avvicinato. Mi ha dato la sua benedizione. Mi ha messo la mano in testa. Mi ha puntato il dito. Le sue ultime parole erano Tieni duro, Sam. Tu ce la devi fare. Tieni duro, Sam. Tu ce la devi fare. Adesso vai. Vai a riposarti perché domani ti aspetta una giornata dura di lavoro. E ti prego, non voltarti. Il giorno dopo mio papà non c'era più. Allora, voi vi rendete conto, un mese dopo il nostro arrivo, il 16, il 18 di settembre del 19, sarà stato il 20. Io ero rimasto solo. Solo. Qui. A tenere duro. A sentire le sue ultime parole. Tieni duro, Sam. Tu ce la devi fare. Ma come fai? Come fai? Ecco.